ben ritrovati seconda puntata un grandissimo successo mi state scrivendo in tantissimi cerchiamo di rispondere per quanto possibile a tutti con l'avvocato Massimiliano Dona al servizio proprio dei consumatori bentornato avvocato grazie Sonia ben trovata un cavallo di battaglia veramente incredibile del nostro avvocato è proprio il supermercato i suoi video i suoi contenuti registrati proprio fatti proprio dal supermercato perché mi spiegava proprio che c'è una quantità di cose da sapere su cui veramente fare attenzione incredibili quindi vogliamo proprio aprire questo argomento i supermercati qual è l'argomento più importante Massimiliano la prima cosa che i nostri amici consumatori devono sapere ma di questi tempi il tema più gettonato è quello delle offerte delle promozioni consumatori ci chiedono ovviamente come fare tesoro di queste situazioni per abbassare il costo della spesa alimentare vista la difficoltà nella quale vivono molte famiglie entrando in un supermercato troviamo offerte praticamente su ogni scaffale alcune ci sembrano molto facili da intuire ma in realtà non è così un primo consiglio che vi do Sonia riguarda l'offerta forse più famosa è il sottocosto è bene sapere che quando un supermercato offre dei prodotti sotto costo di solito queste offerte campeggiano sui volantini si tratta di prodotti generalmente molto pregiati di valore non so un formaggio particolarmente apprezzato oppure un olio extravergine d'oliva e questi sono quelli che noi chiamiamo i prodotti civetta cioè sono prodotti che servono ad attirare proprio grazie volantini i consumatori in quel punto vendita ma la notizia è che sebbene su quei prodotti effettivamente il consumatore possa ottenere un risparmio importante perché sotto costo è una disciplina prevista dalla normativa vuol dire che il supermercato ci sta vendendo quel prodotto ad un prezzo inferiore rispetto a quello al quale l'ha pagato quindi mette in parole molto semplici su quei prodotti il supermercato ci perde e allora come fa a fare il suo business beh quando c'è un sottocosto forse ve ne sarete accorti scompaiono tutte le altre promozioni comprerò un prodotto un formaggio un olio un magari un prosciutto ad un prezzo molto vantaggioso ma rischierò di spendere di più su tutti gli altri prodotti e quindi il consiglio che diamo ai consumatori è di andare in quel punto vendita e comprare soltanto il prodotto in offerta e non gli altri anche perché c'è un meccanismo psicologico Sonia che è questo il consumatore avendo comprato un prodotto sotto costo si sente la coscienza libera e quindi magari impuggerà su prodotti che non erano nella sua lista della spesa e che come ti dicevo il supermercato ci fa pagare più cari proprio per recuperare il vantaggio che ci ha concesso sui prodotti in offerta ancora passando ad un'altra classica promozione c'è il 3x2 il 3x2 sembra un'offerta molto facile molto comprensibile consiste in questo acquisto due prodotti ho diritto di portarne a casa 3 ma la cosa che spesso si sottovaluta è che nella nostra lista della spesa ancora una volta c'era soltanto un pezzo cioè una scatola di pasta una confezione di biscotti il supermercato invece grazie al 3x2 mi induce a comprarne due e a pagarle entrambe a prezzo pieno con la promessa di darmi un terzo prodotto un terza una terza confezione ora può servire a fare dispensa a fare magari ad approfittare di questo risparmio ma soltanto se sono prodotti per i quali magari io ho quest'utilità insomma ho degli amici che hanno veramente il frigorifero pieno di vasetti di yogurt che non riusciranno a consumare perché rischieranno di scadere prima che io li possa consumare ti faccio un altro esempio che riguarda la farmacia ormai le farmacie sono un po' come dei supermercati è chiaro che un 3x2 di dentifrici da denti può avere un senso perché in qualche modo è un prodotto che io consumerò mi trovo una confezione in più per quando l'avrò finita ma se accetto di comprare il 3x2 per gli spazzolini da denti vi direte magari come me che ho una collezione di spazzolini da denti nel nell'armadietto del bagno e magari non me ne ricordo neppure per cui ogni tanto ne compro di nuovi quindi attenzione anche al 3x2 per proseguire il nostro viaggio al supermercato ti racconterò non so delle offerte dei prodotti alla rinfusa spesso si trovano all'interno del supermercato delle ceste dove noi troviamo dei prodotti buttati lì appunto alla rinfusa e questa è una tecnica di marketing che serve a darci l'idea di prodotti che sono a basso costo che magari sono stati buttati lì dal supermercato quasi siano delle rimanenze attenzione perché non è così quindi troverete una cesta magari con delle confezioni di pasta ma vi conviene andare a verificare nel reparto della pasta anche questa distanza ci impedisce un facile confronto se effettivamente quel prodotto è un prodotto in offerta oppure se semplicemente un prodotto esposto in quella maniera così appariscente e poi in generale quando c'è un'offerta sullo scaffale è sempre bene controllare se magari non è riservata ai possessori della tessera fedeltà oppure se quell'offerta non è scaduta perché il rischio di portare alla cassa dei prodotti pensando di averli acquistati in offerta ma poi di avere una cattiva sorpresa tutto questo per dirti che al supermercato nulla accade per caso eh ogni cosa anche il carrello della spesa questa è una cosa che incuriosisce spesso i nostri amici consumatori il carrello di solito ha delle dimensioni enormi esorbitanti è molto più grande di quanto non ci serva serve a darci una sensazione di inadeguatezza cioè di non aver comprato abbastanza eh i prodotti all'interno di questo carrello spariscono e il consumatore è spinto così a comprare di più come arrivando alle casse succede in quella zona che si chiamano le pancasse dove ci annoiamo perché siamo costretti all'attesa del nostro turno e quindi finiremo per comprare magari un dolcetto o una crema antirughe che troviamo lì esposta o o un ovetto di cioccolato magari messo ad altezza bambino proprio perché la la noia dell'attesa ci fa comprare delle cose che non sono nella nostra lista della spesa l'abbiamo citata tante volte la lista della spesa perché la Sonia è davvero il modo migliore per far quadrare i conti fare una lista a casa con tranquillità delle cose di cui abbiamo bisogno magari pensando anche alla ai piatti che vorremmo portare in tavola durante tutta la settimana e compriamo cerchiamo di attenerci alla lista compriamo soltanto quello che abbiamo scritto in questo modo risparmieremo ultimi due consigli prima di lasciarti non andate al supermercato a stomaco vuoto perché studi scientifici dimostrano che comprerete di più grazie al fatto che avete appetito e potendolo fare non andate in compagnia perché ancora una volta gli studi dimostrano che se siamo soli compriamo di meno se andiamo in compagnia con un familiare con un amico finiremo per comprare di più perché il buon umore spinge i consumatori a fare acquisti veramente grazie avvocato perché in tutti questi anni di interviste di comunicazione anche con professionisti che si occupano di insomma di comunicare questo tipo di argomenti e di cose devo dire che mi hai dato degli spunti che ancora su cui ancora non avevo potuto riflettere quindi se è così per me sono sicura che anche chi mi segue chi ci segue a questo punto ne potrà veramente tantissimi benefici vi ricordo consumatori.it vi ricordo che l'avvocato massimiliano dona vi aspetta sui suoi social ogni non dico ogni giorno però insomma spessissimo con i suoi contenuti assolutamente indispensabile grazie avvocato alla prossima puntata a poi alla prossima